Buon vino, musica dal vivo e piatti friulani. Al fogolar Furlan di Limbiate si festeggia il Via Arte, il tradizionale momento con cui si accoglie l'arrivo dell'estate. La comunità friulana è molto forte sul territorio, il fogolar di Limbiate riunisce oltre 400 famiglie. La sede di via Monte Sabotino apre ad amici simpatizzanti fino a domenica sera. Il menù è ricchissimo, per cena si possono gustare piatti della tradizione regionale, dal frico alla gubana, baccalà e grigliate. Nell'area anche un piccolo mercatino alimentare dove i prodotti tipici della regione vanno a ruba. Il Via Arte è la prima delle due manifestazioni che vengono organizzate ogni anno. La festa per l'inizio dell'estate è occasione anche per inaugurare la nuova veranda appena ultimata. Come abitudine del fogolar, gli utili di questi tre giorni verranno destinati alla beneficenza. Il fogolar Furlan di Limbiate è da 40 anni sul territorio, naturalmente il suo scopo è quello di mantenere le tradizioni, gli usi e costumi della sua terra. Veniteci a trovare, vi aspettiamo numerosi.